Bene, effettuiamo la codifica Java di questo diagramma di flusso che avevamo realizzato per risolvere il problema della calcolatrice, cioè di creare una calcolatrice per effettuare le quattro operazioni. Intanto ne approfitto anche per ricordare come si lavora in questo ambiente di sviluppo integrato che è Eclipse, Eclipse può essere scaricato gratuitamente dalla rete e non richiede installazione, basta poi estrarre i file contenuti all'interno della cartella compressa che si scarica ed è già pronto per l'uso. Ora quando si avvia appare questo ambiente di lavoro, fate attenzione perché state lavorando con Java Standard Edition, quindi bisogna selezionare qui come Perspective la Perspective Java e a questo punto potete creare il primo progetto, primo o ennesimo, ma seconda, diamo al progetto nome, calcolatrice e poi basta cliccare su finish il progetto, lo vedete comparire qua a sinistra, poi è sempre consigliato andare a creare un package all'interno del quale mettere le nostre classi, i nostri programmi, quindi con il tasto destro del mouse su SRC scegliamo New Package e qua scriviamo il nome di questo package usando solo lettere minuscole senza spazi. si possono usare dei punti come separatori, normalmente per i nomi dei package c'è la convenzione di utilizzare il nome di dominio inverso, per esempio se il nome di dominio è google.com il dominio inverso è com.google, io adesso non ho il mio nome di dominio quindi lo invento e scriverò questo come nome del package e poi si possono aggiungere anche ulteriori diciamo sotto package sempre con separatore punto. Ora per creare la classe tasto destro del mouse sul nome del package new class e chiamiamo la classe calcolatrice, i nomi delle classi iniziano sempre con maiuscola, non contengono spazi, se il nome composto si utilizza l'annotazione camel case, poi visto che questo è un programma eseguibile selezioniamo questa casella così viene generata anche l'intestazione del metodo se il font appare troppo piccolo potete ingrandirlo tenendo premuto il pulsante control sulla tastiera e utilizzando premendo il più ma non quello sul tasterino numerico. Naturalmente funziona anche al contrario, si può fare ridurre il font con control meno. Possiamo ingrandire quest'area cliccando su questo pulsante. Ora procediamo con la codifica. Quindi utilizzeremo la classe scanner per l'input e quindi faremo input a output a console. Per cui la prima cosa da fare è andare ad aprire il flusso di input. Scrivendo scanner console, console è un nome che potete anche cambiare, uguale new scanner di system.in. Compaiono un po' di rigrosse per motivi differenti. Allora, questa sotto scanner compare perché bisogna importare la classe. Basta posizionarsi su scanner e poi selezionare tra le varie opzioni che compaiono la prima. Import scanner dal package java.util. Quindi si vede comparire qua in alto la direttiva di importazione. Invece queste righe rosse sono dovute al fatto che c'è un correttore ortografico che non capisce l'italiano e quindi conviene sempre eliminare il correttore automatico posizionandosi sopra queste righe rosse e scegliendo disable spell checking. Poi c'è una sottolineatura gialla che corrisponde a questo simbolo sulla sinistra che è un warning, un avvertimento, non è un errore. Questo warning ci dice che dobbiamo chiudere il flusso di input. Quindi per chiudere il flusso di input scriviamo console.close. Non è un errore comunque, è solo un avvertimento. Impostato tutto questo possiamo iniziare la codifica andando ad assegnare a questa variabile errore il valore false. La variabile errore è una variabile booleana quindi boolean errore uguale false. Poi possiamo anche dichiarare le altre variabili che sono operazione lavoravamo con gli interi, quindi operazioni di tipo int poi abbiamo numero 1, numero 2, quindi int numero 1, virgola, numero 2, virgola, operazione punti e virgola. Molto spesso mi viene chiesto perché compaiono queste righe gialle basta andare a vedere, ci si posiziona sopra questo simbolo, questa icona e viene fuori la spiegazione. Il valore della variabile locale operazione non è utilizzato così anche per lo stesso discorso vale per numero 2 e numero 1 ma è normale perché effettivamente le variabili al momento sono solo dichiarate ma non sono ancora state autetizzate quindi niente di grave. Mi sembra che non ci siano... c'è anche la variabile risultato e quindi aggiungiamo risultato le variabili possono essere dichiarate in qualunque punto l'importante è che ciò avvenga prima del loro uso adesso io le dichiaro tutte all'inizio per comodità bene adesso con queste istruzioni di output specifichiamo l'utente che può inserire 1 per l'addizione 2 per la moltiplicazione eccetera eccetera quindi system.out.println inserisci 1 per più a brevio così 2 per per virgola 3 per meno virgola 4 per diviso virgolette chiuso e punti virve quindi ho codificato questo blocco adesso vado a codificare il blocco input operazione per cui a operazione devo assegnare console.operazione intero quindi next int adesso vado a codificare questo output inserisci primo numero e input numero 1 e poi farò la stessa cosa con output inserisci secondo numero input numero 2 ok da qui inizia la sequenza degli if allora se avete paura di perdervi con tutti questi if possiamo iniziare a creare uno schema scheletro in questo modo allora if poi scriviamo la prima condizione operazione uguale uguale a 1 ora qui apriamo una parentesi graffa andiamo invio così si chiude la parentesi graffa questa parentesi graffa chiusa corrisponde a questo punto del diagramma di flusso quindi dentro queste parentesi graffe andiamo a mettere le istruzioni del ramo vero ma dopo queste istruzioni del ramo vero abbiamo le istruzioni del ramo falso allora si può andare a capo e scrivere else eccetera eccetera quindi parentesi graffa aperta parentesi graffa chiusa oppure adesso inizio a farvi anche vedere un altro modo di scrivere l'else lo scriviamo vicino alla parentesi chiusa della parte vera dell'if quindi else apriamo le due parentesi apriamo la parentesi graffa e la chiudiamo qua dentro avremo tutte le istruzioni del ramo falso dell'else ma le istruzioni nel ramo falso dell'else di questa condizione operazione uguale a 1 sono tantissime guardate sono tutte queste in particolare qua dentro abbiamo un altro if per cui vado a scrivere if poi inserisco l'altra condizione operazione uguale uguale a 2 e di nuovo copia di parentesi graffe qua scriverò ciò che c'è nel ramo vero ma poi abbiamo sul ramo falso di nuovo un insieme abbastanza consistente di operazioni quindi else qua dentro ci sono le operazioni che stanno sul ramo falso della condizione operazione uguale a 2 quindi tutte queste qua che vedete allora inizio a scriver if operazione uguale a 3 e di nuovo con lo stesso meccanismo parentesi per scrivere le istruzioni del ramo vero e poi else per la parte falsa la parte falsa è questa da operazione uguale a 4 in poi quindi anche qui di nuovo if operazione uguale uguale a 4 quindi non sto entrando nel dettaglio delle singole istruzioni da eseguire ma mi sto concentrando sugli false questo può essere un modo per evitare di sbagliarsi non so se sia utile per tutti però faccio vedere magari qualcuno è utile if operazione uguale a 4 allora nel ramo vero ci sarà qualcosa nel ramo falso abbiamo altro quindi else ora nel ramo else non abbiamo più degli if quindi termina qui ora andiamo un po' a ritroso quindi l'ultimo else che era questo qua conteneva due istruzioni output errore l'operazione non esiste e l'assegnazione a di true ad errore per cui lo scriviamo abbiamo chiuso questo ramo cioè abbiamo scritto tutte le istruzioni presenti su questo ramo false andiamo a vedere cosa c'è invece sul ramo vero il ramo vero l'avevamo lasciato in sospeso qui c'è un altro if ok allora aggiungiamo if numero 2 diverso da 0 e di nuovo abbiamo la parte true e la parte false quindi nella parte false di nuovo abbiamo un messaggio di errore e l'assegnazione alla variabile errore del valore true quindi posso copiare quello che avevo fatto qui e andarlo a scrivere qui cambiando solo la frase errore non puoi dividere per 0 invece nella parte true c'è un'unica istruzione che assegna al risultato il valore di numero 1 fratto numero 2 poi sempre risalendo il ramo false l'abbiamo terminato invece manca il ramo true di questa operazione uguale a 3 quindi se l'operazione uguale a 3 è vera se questa condizione è vera dobbiamo andare ad assegnare al risultato il valore di numero 1 meno numero 2 poi sempre risalendo andiamo a vedere anche qui la parte else è terminata quindi siamo in operazione uguale o uguale a 2 nella parte nel ramo true abbiamo di nuovo risultato uguale numero 1 per numero 2 e ancora risalendo nel ramo true di operazione uguale a 1 abbiamo risultato uguale a numero 1 più numero 2 beh ho fatto diciamo un percorso inverso dal fondo all'inizio ma ovviamente si può fare anche il contrario questo dipende un po' da come vi trovate meglio ora la terminazione diciamo la chiusura di questo if else è qui è molto importante tenere le parentesi allineate in modo tale da capire dov'è che termina no? cioè dove si trova la terminazione di un certo punto del diagramma di flusso quindi siamo arrivati qui dopo di questo c'è un'altra istruzione condizionale un if errore uguale a false quindi se non sono stati commessi errori andiamo a produrre in output il risultato perché ci dà questo errore? perché ci dice che la variabile locale risultato deve essere inizializzata perché siccome assegniamo un valore questa variabile all'interno di questi if anidati è possibile che si esca senza dare al risultato un valore di conseguenza queste sono un po' le limitazioni imposte dal compilatore quindi andiamo dove c'è la variabile risultato e le diamo un valore per esempio il valore 0 un valore iniziale che non cambia assolutamente poi il comportamento del programma salviamo e vediamo cosa cosa succede andiamo ad eseguirlo e facciamo tutti i vari test per accettarci che funzioni correttamente quindi inseriamo inizialmente 1 poi inseriamo il primo numero 10 il secondo numero 5 e il risultato è 15 poi andiamo di nuovo ad eseguire inserendo 2 come operazione quindi la moltiplicazione 5 e 2 come numeri il risultato è 10 in effetti è giusto poi andiamo a scegliere l'operazione 3 che è una sottrazione quindi inseriamo il primo numero 10 il secondo numero 5 e il risultato è 5 giusto poi ancora scegliamo l'operazione 4 inseriamo 10 e 2 e il risultato è 5 perché 10 diviso 2 fa 5 testiamo ancora la condizione di errore ossia proviamo ad inserire a scegliere 4 un'operazione a inserire il primo numero e poi inserire 0 e vedete che compare non puoi dividere per 0 infine supponiamo che l'utente inserisca un'operazione non esistente e ci dice che l'operazione non esiste possiamo fare un'osservazione ecco quando viene inserito un numero che non corrisponde a nessuna delle operazioni previste sarebbe più corretto che non venisse richiesto l'inserimento del primo e del secondo numero ma che comparisse che il programma terminasse immediatamente ecco quindi vi suggerisco di provare a studiare una variante che permetta appunto di uscire subito dal programma se si inserisce un numero errato grazie grazie